Vista la statura fisica del conduttore giustamente il Dertona basket ha scelto i due più alti della rosa per l'intervista ma con loro seduti direi che più o meno le proporzioni sono rispottabili no in questo modo Luca Severini Alessandro Morgillo buongiorno a tutti appena finito l'allenamento è arrivati qua proprio al termine della inaugurazione di questi alberi che vi hanno fatto anche un po piantumaro vitto che di là vi siete esercitati anche con la vanga insomma Luca sì 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 fino a finito l'allenamento siamo venuti qua diciamo che l'uso delle mani è leggermente diverso no forse il basket ha più sensibilità sì un po però siamo siamo uguali il fisico per reggere ce l'avete non è stata dura no no siamo abbastanza allenati con i pesi di Andre Baldi ci siamo cadavene ecco a proposito di allenamenti questa mattina proprio appena finita la rifinitura no in vista della gara 1 che sarà domani sabato sera ore 20 e 45 al Palau Treppo carichi? Sì molto carichi questa gara 1 siamo preparati al meglio abbiamo ancora un allenamento domani mattina e poi siamo pronti per domani tutti disponibili come state c'era qualche acciacco ma mi risulta che sia stato superato la condizione generale della squadra? Sì è stato qualche acciacco però oggi ci siamo allenati al completo e siamo preparati bene in settimana per affrontare questi inizi di playoff che tema si potrà avere su questa partita un po anche per le caratteristiche che hanno i giocatori di Orasi Ravenna nel senso anche a livello di quali sono magari gli aspetti che caratterizzano più il Dertona e più gli avversari? Ravenna è un'ottima squadra sicuramente farà più attenzione alle loro guardia Cinciarini, Rebece però sì sono questa squadra fisica hanno fatto un buon campionato e hanno preparato cose che dovremmo fare più attenzione ai nostri punti di forza che dovremmo sfruttare Hai fatto anche dei nomi di giocatori che hanno nazionali, trascorse importanti eccetera citavi dei giocatori anche sugli esterni anche diciamo nel tiro una delle caratteristiche di questa squadra avere molta qualità sugli esterni Alessandro? Sì loro hanno Cinciarini e Venuto che è uno specialista da fuori Venuto è il nostro ex, ex Dertona, il play Mi sembra di no, credo De Negri sia il nostro ex Marco Venuto? Solo Venuto Probabilmente Ok Sì loro hanno i tre esterni che sono il loro principale punto di forza proprio a livello di possesso palla e di punteggio Noi dovremmo cercare di limitarli con le nostre difese però comunque le nostre guardie sono più grosse delle loro quindi cercheremo E sono molto forti al tiro E molto forti al tiro e cercheremo di puntare lì comunque la partita Ecco questo è un po' il tema invece per così guardando un po' quello che è il tabellone, le griglie eccetera Possiamo essere fiduciosi di fare un buon percorso Secondo voi chi saranno le squadre che potranno magari speriamo anche insieme al Dertona arrivare fino in fondo? Del nostro tabellone? Tutte e due Sicuramente le squadre più attrezzate sono viste hanno fatto anche acquisti ora per i playoff Napoli diciamo la favorita numero uno Poi anche Scafati ha fatto acquisto di Gaines E sono nell'altra parte del tabellone quindi già questa è una buona cosa Sì nella nostra parte Verona ha preso Sacchetti però comunque Torino, Forlì sono ottime squadre Ma sono tutte ottime squadre e non dovremmo sottovalutare nessuno Con Forlì abbiamo già dato una volta bene un'altra meno bene Napoli, tu sei di origine napoletana se non sbaglio Quindi abbiamo visto che Napoli che forse teoricamente è anche la più forte dell'otto Abbiamo visto che questo Dertona ha giocato assolutamente alla pari Perché per ben due volte tra campionato e coppa ha perso all'ultimo canestro dell'overtime Napoli è in realtà molto forte Hanno dei ottimi giocatori però nonostante come l'ultima partita siamo stati sotto anche di tanto Siamo comunque riusciti a riprendere la partita in mano E poi ovviamente poi all'overtime ce la siamo giocata Ma loro sono stati più freschi e più forti mentalmente Prima di venire a Tortona tu ti favi Napoli? Non proprio Qual era? Prima ero a Verona quindi Peggio ancora Vi favoriamo a Verona Allora bisogna vedere che cosa può accadere insomma in questo girone Vi sento tranquilli ma al tempo stesso determinati, carichi Quindi sarà questa immagino la forza principale che andrete a mettere sul parquet sabato sera Insomma un grosso in bocca al lupo allora Luca Severini, Alessandro Morgillo, a tutto il roster del Dertona Basket in vista di questi playoff Fateci divertire, fateci sognare Speriamo di divertirci anche noi e di andare il più avanti possibile In bocca al lupo Grazie